Scopri Teramo è un'app intelligente ideata da un giovane ricercatore teramano Matteo Renzi e adottata dal comune di Teramo. Una volta scaricata, il gioco è fatto. Nell'esatto momento in cui si passa accanto ad un monumento della città, ecco immediato l'arrivo di un messaggio sul proprio cellulare con tutte le notizie e le foto del sito storico. Oggi questa app fa un passo in avanti, tutti i testi saranno tradotti in quattro lingue, il che permetterà il suo utilizzo anche da parte dei turisti stranieri. Il servizio di traduzione sarà fornito dagli studenti del liceo linguistico Milli di Teramo. Oggi in particolare abbiamo parlato a questi ragazzi che si occuperanno della traduzione, ognuno si occuperà di un testo, chiedendo di farlo bene, di occuparsi bene di queste traduzioni e portando l'esempio anche di un altro ragazzo, il nostro, il teramano Matteo Renzi, che ha avuto un'idea per la sua città, l'ha presentata alla Fondazione Ballone, al premio della Fondazione Ballone ed è stato premiato perché l'idea era effettivamente qualcosa anche di straordinario sotto l'aspetto tecnologico e di innovativo in ambito turistico. Per noi è una risorsa enorme poter tradurre così rapidamente tutti i testi dell'app perché anche già dallo scorso anno con la manifestazione di Teramo Latour Indomita e con altre iniziative abbiamo effettivamente ricevuto tantissimi turisti anche provenienti da fuori nazione, quindi è importante avere questi strumenti tutti in lingua e disponibili per tutti. Ci sono tantissime altre scuole che in qualche modo potranno integrare questa applicazione, perché? Perché è un'applicazione, è un progetto a lungo termine, lo definirei, abbiamo acquistato i server per oltre dieci anni, quindi oggi abbiamo un percorso che si chiama Scopri Teramo, ma potremo avere il percorso delle chiese, potremo avere il percorso naturalistico della città di Teramo, potremo avere il percorso della provincia di Teramo e delle frazioni di questo comune, quindi c'è tanto da lavorare e il coinvolgimento delle scuole è necessario davvero. La collaborazione alla crescita dell'app Scopri Teramo da parte degli studenti teramani rappresenta per i ragazzi stessi un accrescimento culturale di notevole importanza, come spiega la preside dell'Iceo Milli, Manuela Divisi. I ragazzi sono una grande risorsa, sono il nostro futuro, sono coloro che poi dovranno fare delle scelte anche per noi e quindi è giusto sensibilizzarli verso queste tematiche. Da qui è nata proprio l'idea di arricchire quest'app già proposta dal comune di Teramo, anche per dare la possibilità ai turisti di poterne fruire e di visitare questa bellissima città con molta consapevolezza, con cognizione e quindi i nostri studenti del liceo linguistico si cimenteranno nella traduzione di questi luoghi di interesse.